Ciao ragazze, allora nuovo video, questo sarà il video dedicato alla linea Cellular Beauty Devo dirvi che questa volta mi avete veramente invasa di messaggi su Instagram tipo mi avete scritto Marzia ti prego sbrigati facci il video perché magari poi i prodotti terminano e noi non li troviamo più, facci sapere se sono buoni, se hanno un buon inchi, cosa ne pensi e approfitto proprio in questo video per dirvi di seguirmi assolutamente su Instagram perché tramite appunto le Instagram Stories potete rimanere aggiornate più in tempo reale su tutti i prodotti Lidl, se hanno un buon inchi, se mi piacciono, se li ho già provati, cosa ne penso insomma su tutte le mie prime impressioni c'è la linea, quella Cellular Beauty, ragazzi, cioè purtroppo non ha un buon inchi soprattutto le creme viso, visto che contengono dimeticone se proprio dovessi consigliarvi un prodotto, sicuramente il contorno occhi che hanno ingredienti un pochettino migliori rispetto al resto ma comunque sono abbastanza sintetiche perché so che tantissime di voi adorano questo genere di video e lì essendo più immediato io posso dirvi in un nanosecondo veramente tutte le novità che ci sono questo video nello specifico avevo pensato, come avete letto dal titolo di parlarvi della linea Cellular Beauty per la prima volta ve ne ho parlato nel video delle novità della settimana e già sotto quel video, in tantissimi, mi avete detto che hanno letto la lista degli ingredienti dei singoli prodotti, mi hanno detto che in effetti questi prodotti non hanno proprio un buon inchi e devo dirvi che sì, in effetti avete ragione, avete occhio quasi più di me ho trovato nell'espositore ben 4 pezzi della linea Cellular Beauty che come potete capire è una linea in limited edition quindi la potete trovare fino ad esaurimento scorte in primis abbiamo la Cien Cellular Beauty Day Cream con SPF 15 confezione contiene 50 ml di prodotto e ha un pao di 12 mesi e la riconoscete perché comunque è quella di colore viola chiaro io ragazze ho letto l'inch e tra le prime posizioni in effetti questa day cream contiene anche di meticone quindi non vi consiglio assolutamente di provarla Cellular Beauty Night Cream non ha alcuna protezione solare anche questa contiene 50 ml di prodotto ha un pao di 12 mesi e la riconoscete perché comunque ha un colore più scuro come per la precedente purtroppo ragazze anche questa crema contiene di meticone tra tutto l'espositore però mi ha incuriosito tantissimo questa Eye Mousse Cellular Beauty Cien che praticamente è una mousse contorno occhi che va applicata mattina e la sera devo dirvi che l'inch non è assolutamente male non contenendo assolutamente di meticone è migliore delle creme viso precedenti l'unica cosa che lo vedo è un prodotto vuoto nel senso che non ha un gran che di attivi io sinceramente parlando di me stessa preferisco applicare sul viso sempre prodotti un po' più naturali quindi ho deciso di non acquistarla contiene 15 ml di prodotto e ha un pao di 6 mesi l'ultimo prodotto è poi il Serum Cellular Beauty Cien anche questo contiene 15 ml di prodotto e ha un pao di 6 mesi devo dirvi che il siero non è un gran che nel senso che contiene anche questo tantissimi oli e stratti naturali è anche adatto per chi ha il contorno occhi molto secco però in quanto tra le prime posizioni troviamo il burro di karité e tantissimi oli naturali l'unica cosa che lo vedo è un prodotto abbastanza sintetico contiene anche profondi diciamo io non l'ho acquistato sempre per il discorso di prima ma comunque in generale posso dirvi che assolutamente la mousse e il siero sono a livello di inci i prodotti migliori della linea e se proprio magari volete togliervi uno sfizio lo ritrovate in promozione e volete prendere qualcosa assolutamente vi consiglio questi due prodotti comunque ragazze con questo è tutto spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando lasciatemi un bel pollice in su di supporto ricordatevi sempre di iscrivervi al canale fatemi sapere se voi avete preso qualcosa se per caso avete provato questi prodotti come vi siete trovate io vi mando un bacio grande e ci vediamo nel prossimo video e su Instagram ciao